Ciao a tutti ragazzi, sono Kundispa, questo è il primo video che faccio per voi fan che seguite la mia pagina Facebook, Tutti i pazzi per FIFA e il mio nuovo canale. Questo video, come tutti gli altri che seguiranno, tratterei il nostro videogames preferito FIFA. Oggi, come introduzione, vi illustrerò in breve le novità principali di quest'anno di FIFA. Per prima cosa, volevo farvi vedere il nuovo catalogo disponibile per tutti noi nerd di FIFA. Come avrete notato, siamo sottoposti da più di un anno ad una classifica a livelli. Come spero ben già sapete, per scalare quest'ultima classifica è necessario acquisire dei punti durante il gioco. Io vi do un consiglio. Se volete scalarla più velocemente, dovete giocare molto spesso alle partite online, ad esempio FIFA Ultimate Team, le partite testa a testa e via dicendo. Comunque, torniamo al catalogo. Una cosa molto carina che hanno aggiunto quest'anno, a mio parere, sono le magliette storiche delle squadre, che adesso vi illustrerò. Ad esempio, la maglietta del Borussia Dortmund, la maglia storica del Bayern Monaco, la maglia storica del Borussia Mönchengladbach e via dicendo. Comunque, vi volevo far notare che, premendo R1, vi apparirà una lista con le modalità di gioco e con gli oggetti disponibili per ogni modalità. Come vedete, ad esempio, la carriera, la modalità in gioco, la modalità online, la modalità Ultimate Team e poi gli oggetti posseduti. Premendo L1, invece, vedrete il catalogo suddiviso in base ai livelli. Ragazzi, adesso vi lascio. Spero che questo primo tutorial vi sia piaciuto. Al prossimo video. Vi ricordo che, se non avete niente da fare, proprio niente, mettete mi piace a questo video e diventate fan della mia pagina Facebook, che vi lascerò in descrizione. Bye!